Giornalisti nel mirino dei vandali. Alcune scritte novax in cui erano ben chiari insulti quali censura e nazismo sono comparse davanti alla scritta della sede dell'Ordine dei giornalisti in via Bernini a Palermo. Netta la presa di posizione della Federazione Italiana Giornalismo, Editori e Comunicazione, sindacato aderente alla CISAL, i cui consiglieri nazionali siciliani Giulio Francese, Santino Franchina, Orazio Raffa, Attilio Raimondi, Daniele Ditta, Roberto in mesi, Graziella Lombardo e Viviana Sammito, hanno affermato. Gli atti di vandalismo, intimidazione e violenza non solo non condizioneranno il lavoro dei giornalisti, ma rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire nel solco di un'informazione libera, corretta e plurale. I consiglieri figge e caospicano anche che sia fatta piena luce sull'accaduto e che gli autori del gesto siano individuati in tempi rapidi dalle forze dell'Ordine, dicendosi certi che tutta la stampa siciliana e non solo, continuerà a lavorare con scrupolo e puntualità per fornire un servizio essenziale per i cittadini come l'informazione.